La Digital Transformation ha come obiettivo quello di offrire una cura personalizzata del paziente ma si affonda soprattutto con un insieme di servizi che vanno nella direzione del dato e dell'elaborazione del dato. Un primo livello di servizio è quello di migliorare la qualità del dato grazie a dei sistemi che ci consentono di poter capire quanto crediamo a quell'informazione. Spesso a volte noi medici vogliamo far ripetere degli esami perché ci crediamo poco e lì la Digital Transformation ci aiuterà ma soprattutto nel clasterizzare, nell'aggregare i dati per trovare quelli più significativi che servono per poter navigare in mezzo a questa esplosione di variabili che abbiamo da tener conto. Ma soprattutto la Digital Transformation è sull'elaborazione, ormai si ha uno shift da quelli che sono i paradigmi induttivi ho delle regole e le vado a verificare sui dati, ho dei dati e vado a trovare le regole, il metodo deduttivo andando sui metodi addottivi dove si formano delle probabilità che le tecnologie della Digital Transformation riescono a massimalizzare per verificarne la loro efficacia. È molto vero il paradigma che Sir William Hosler ci diceva, la medicina è una scienza dell'incertezza è un'arte della probabilità, la Digital Transformation sta rendendo quest'arte sempre più personalizzata e più individualizzata per le singole esigenze del paziente.